Safegate Pro. Igenizzare le persone, gli ambienti e controllare gli accessi. Igiene e sicurezza sempre e ovunque. Visita il nostro sito safegatepro.com Bentornati all'appuntamento con le previsioni meteo di TV6. Nello corso di questo, mercoledì 16 febbraio, il maltempo si sposterà al sud e porterà piogge, qualche temporale e nevicate abbondanti. In montagna, oltre ai 1400 metri di quota, sul resto della penisola inizierà a farsi sentire una nuova rimonta anticiclonica che regalerà tempo via via sempre più stabile e temperature via via sempre più alte, a cominciare dal settentrione. Per quanto riguarda l'Abruzzo, ci attende un mercoledì via via più stabile, ancora qualche nuve compatta al mattino, specie sul Bastese, l'Appennino, però con fenomeni via via sempre più deboli avremo ancora qualche scroscio di pioggia, qualche fiocco di neve oltre ai 900 mila metri di quota, per il resto tempo in rapido miglioramento. Potremmo dire che tra pomeriggio e sera i cieli saranno sereni su gran parte della regione. Dal punto di vista termico, valori in calo, sia nelle minime che nelle massime. In pieno giorno valori tra i 6 e 12 gradi, minime tra meno 1 e 7 gradi. Grazie per l'attenzione. Arrivederci al prossimo aggiornamento.